Sì, è proprio così. La ministra Lamorgese è arrivata qui al Giambellino, siamo al teatro Shalom della parrocchia di San Vito, sta parlando di sicurezza e la prima parola che ha speso è stata proprio quella dell'attenzione. Attenzione perché la curva dei contagi sta crescendo. Ha detto subito, parlando di sicurezza, Milano non è il far west, lo riconfermo, bisogna muoversi assieme, c'è tanta collaborazione, arriveranno anche i militari, anche se non dipendono dal ministero dell'interno ma dalla difesa, ci sarà una rimodulazione anche su Milano, ma è soprattutto la preoccupazione per la diffusione del contagio. E quindi da Milano anche la ministra Lamorgese ha lanciato un appello. Sentiamolo, intanto io restituisco la linea. Quello che noi dobbiamo fare sicuramente sono controlli, controlli serrati. Riusciremo certamente con grande professionalità, umanità, ma con grande fermezza ad essere attenti e cercare di limitare il più possibile i danni, perché questo è un periodo molto delicato. In questo momento parlare di lockdown non ne voglio neanche parlare, perché ovviamente i rischi sarebbero oltre che sanitari, anche economici. E quindi proprio per quello dobbiamo essere il più possibile responsabili.